Dalla terra dei fuochi all'etica del giornalismo, un progetto che coniuga ambiente e comunicazione e si rivolge ai ragazzi della città. Lo promuovono i due cronisti del mattino, Gerardo Ausiello e Leandro Del Gaudio, che dopo il libro inchiesta Dentro la terra dei fuochi scelgono le scuole per approfondire un tema che resta purtroppo ancora di forti attualità. Gli studenti saranno coinvolti i laboratori didattici per comprendere il mestiere del giornalista e sviluppare una consapevolezza critica sul ruolo dell'informazione rispetto a questioni come la salvaguardia dell'ambiente. Siamo convinti che si debba partire dai ragazzi, è importante educare all'ambiente, rispetto all'ambiente. Sappiamo che si sono persi 20-30 anni perché non si è mai data avere attenzione all'ambiente, l'ambiente è sempre stato considerato una risorsa da sfruttare e non un bene da rispettare. Noi speriamo nel nostro piccolo di dare un contributo per poter iniziare a invertire la tendenza. L'informazione può imporre all'agenda politica cittadina e nazionale la questione dell'ambiente e del rispetto del territorio. Noi puntiamo attraverso il nostro laboratorio a creare una scrittura etica e responsabile, a differenza di quanto avviene fino a questo momento, lì dove il modo di dialogare dei giovani, degli studenti e quello appunto dei social network che molto spesso è completamente disancorato rispetto alla responsabilità. Per cui noi abbiamo trovato nella Costituzione italiana un punto di contatto tra rispetto delle regole nella scrittura e il rispetto della tutela del territorio e dell'ambiente. Presentata nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l'iniziativa è realizzata a titolo completamente gratuito e gode del patrocinio del Comune e dell'Ordine dei giornalisti. Gli incontri con i ragazzi prenderanno il via al Liceo Gian Battista Vico. L'informazione corretta in questa materia è assolutamente fondamentale, perché è materia delicata, materia difficile dove c'è bisogno di competenza, di giusta informazione, senza creare inutili allarmismi, però raccontando una realtà vera, una realtà difficile che attraversa il nostro Paese. Certo la terra dei fugi è una peculiarità anche dei nostri territori, ma non solo, c'è bisogno di un impegno serio e non retorico da parte soprattutto del Governo e del Parlamento e le istituzioni locali, i cittadini tutti, stare in prima linea con attività di cultura, di sensibilizzazione, di informazione. Il dato incoraggiante sono i nostri ragazzi, sono molto attenti, molto sensibili, molto pronti sul tema dei rifiuti, della terra dei fugi e di quant'altro e voglio anche però sottolineare come la nostra regione è ancora Campania Felix in larga parte, è ancora una regione con tanti imprenditori competenti che investono e che sanno realizzare prodotti di qualità a chilometro zero.